bar etna rouge via grammi c2 alentini caffetteria, pasticceria, gelateria, tavola calda, gastronomia bar etna rouge alentini un posto unico dove gustare piatti freschi e delicati bar etna rouge happy hour servizio catering per i tuoi eventi all'insegna della professionalità, serietà ed eleganza bar etna rouge via grammi c2 alentini